Sì, però che cazzo. Zero. Uno è dietro di te, colonel. Ma che state facendo? Un team si è fatto colonnello, ragazzi. E va su TikTok. Colonnello ritorna su TikTok. Due persone. Quattro se ne è fatte. Quattro. Non un team. Quattro se ne è fatte. Che due persone? Quattro. Cinque.